Ciao ragazzi, come qua? Niente, per farvi un video acquisti. Allora, 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 cosa farvi vedere, cosa farvi vedere, vabbè, allora, ho prodotto Black Ops 3 per One e PlayStation 4. Poi ragazzi, guardate cosa c'ho. Project Cars per 4 e Project Cars per One. Ta-tan! Presi per entrambi, così posso giocare con tutti. Poi, è stato chiesto di prendere questo gioco per giocare con qualcuno di voi che aveva la Play 4. L'ho preso. Adesso andavo ad aprirli. Andavo ad aprire le confezioni. La Play 4, c'è da One, scusate. Io sti così qua, non li tengo. Cosa c'è dentro? Praticamente niente. C'è solo il CD, qua c'è solo il CD, ancora c'è la Distance, così, quello della One. Non ci sono contenuti da scaricare, facciamo sicuramente quello della 4, sicuramente sarà la stessa identica cosa. Sto già prendo, eccolo qua, scarpiamo, scarpiamo, scarpiamo. Ragazzi, in cui sono insopparessa, sono stati tre giorni, un giorno fermo. Qua c'è solo dei punti, registrare, semplici lì. Poi andiamo ad aprire, ma l'avrete visto già 100 volte l'apertura di questo qua. Facciamo dei recuperi. Mancano ancora 5-6 titoli, se lo posso con la 4. Lascio dentro, niente ragazzi. Faccio di staccare direttamente, bene. Non fa niente. Ecco qua. Ecco voi, c'erano qua. Mi manca. Mentre ragazzi, questi erano i miei acquisti. Questi tre. Due Project Cars, uno per One, uno per PlayStation 4. Minecraft. Poi che dirvi. Ah sì. Qua ha prenotato... Cos'è questo? Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo. Vediamo scontenuti di Minecraft. Vediamo qui. Qua invece ho prenotato, ho prenotato anche l'Amiibo maschetto di Splatoon. Poi ho mandato i codici beta per la One e la PS4. Poi, poi, poi... Cosa ho prenotato? Aspettate che c'era insieme. Che ce l'ho qua, sicuramente. Le mie prenotazioni. Vabbè. La PlayStation 4, 500 giga. Quella lì con Batman, da dentro la mia. Poi... U-Star, Victory, per PlayStation 4. Splatoon, edizione limitata. Black Ops per One, Black Ops per Quattro. E l'Amiibo di Splatoon. Il maschetto. Poi gli altri giochi... Eh... Vediamo un po'. Gli altri giochi... Vediamo... Adesso esce The Witcher, sto mese. Mio. L'ho preso per One. Non, per PlayStation 4. E... Certi li prendo doppio, perché posso giocare con tutti e due. E certi invece no. The Witcher l'ho preso solo per One. Niente, ragazzi. Questo è tutto. Che dirvi. Grazie. Abbiamo superato i 1000 iscritti. Siamo a 1020 iscritti. Sono contentissimo. Saluto il mio socio Simo. Saluto la Fra Free. Saluto Bruno Channel TV. Miki. Saluto Marcus. 88 Xbox One. Il mio fratello Dome. Ciao Dome. Saluto tutti i ragazzi che continuano a seguirci. Tutti i ragazzi che continuano a commentare. Tutti i ragazzi di gruppo di Whatsapp. Tutti i ragazzi nuovi iscritti. Continuate a seguirci. Mi raccomando. Mettete un bel like o anche un dislike. Commentate. Avrete sempre risposta. Chi vuole essere messo nel gruppo di Whatsapp lo dica. Iscrivetevi alla pagina Facebook. Mi raccomando, gruppo di Facebook. E mettete mi piace alla pagina Facebook. Io saluto tutti. Dò un bacio alla mia metà. E ci vediamo al prossimo video ragazzi. Che non so per l'idea cosa sarà. Secondo me sarà un gioco 3DS e uno PC. Poi vedrete domani. Lo caricherò nel pomeriggio perché domani mattina vado in palestra. Come fratellino Fabio. Saluto Fabio. Ciao Fabietto. A Sonia. Luca. Capo. E che dirvi. Niente raga. Ci vediamo presto. Con altri video acquisti. E questi erano i miei 3 video acquisti. Più le prenotazioni di Black Ops 3 per One. Per i 4. E Namiibo per la Wii U. Ok raga. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando. Un bel like. E commentate. Ciao belli. Alla prossima. Ciao belli.